I finanzieri del nucleo di polizia tributaria di Bari hanno arrestato ai domiciliari il 49enne Tommaso Basile, amministratore di fatto della società fallita Nuova Levant Auto SRL, operante nel settore del commercio di autoveicoli e dichiarata fallita il 4 luglio del 2013. L'ordinanza di custodia cautelare, notificata al termine di una complessa e articolata attività investigativa denominata Operazione Giulietta, è stata emessa dal GIP presso il Tribunale di Bari su richiesta della locale Procura della Repubblica. L'arrestato, in concorso con altri soggetti, è accusato di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale per circa 4 milioni di euro e frode fiscale per più di un milione. Le indagini hanno permesso di far luce su un articolato disegno criminoso ideato e attuato da Basile in concorso con Valentino Bartolo Pellicani, amministratore di diritto della stessa società, insieme ad altri soggetti segnalati all'autorità giudiziaria per analoghe condotte distrattive.